Ciao, cari amici! Ho una bellissima notizia. Tra poco ci potremo vedere a Milano? Cosa? Allora, ascoltatemi bene. L'appuntamento più importante per le appassionate di musica di alta fedeltà. Un weekend di musica analogica con Zavalenka Records. Allora, 6-7 aprile a Milano io farò tante interviste. Ci saranno più di 80 espositori. Non potete mancare assolutamente. Poi, l'ingresso è gratuito. Venite a trovarci. A dopo!